Il decesso di Chiara Iaconis, una turista ferita di Padova nei quartieri. Incidente tragico. Chiara Iaconis ferita a Napoli. Incidente tragico. Chiara Iaconis ferita a Napoli. Nella città italiana di Napoli, un tragico incidente ha sconvolto l'opinione pubblica. La turista Chiara Iaconis, originaria della provincia di Padova, è stata gravemente ferita nei giorni scorsi in un evento avvenuto nei famosi quartieri spagnoli, un vivace quartiere della città. Secondo i rapporti, la 29enne è stata colpita accidentalmente da un oggetto cadente mentre voleva prendere un caffè con amici in una piazza affollata. Le circostanze dell'incidente sono ancora poco chiare, ma i primi rapporti suggeriscono che i lavori in corso nelle vicinanze potrebbero essere stati la causa dell'incidente. Le autorità locali hanno già avviato un'indagine per chiarire le circostanze esatte. Un portavoce dell'amministrazione comunale ha menzionato che è necessario rivedere le misure di sicurezza nelle aree interessate per evitare simili incidenti in futuro. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti che temono per la sicurezza nel loro quartiere. I quartieri spagnoli sono noti per la loro vita intensa e la loro grande densità, che creano condizioni potenzialmente rischiue. Nach dem Verletzungsfall wurde Chiara umgehend ins Krankenhaus gebracht, wo sie aufgrund ihrer schweren Verletzungen operiert werden musste. Ihre Familie hat um Privatsphäre gebeten, während die Angehörigen in dieser schwierigen Zeit Unterstützung suchen. Freundinnen berichteten darüber, wie besorgt sie über den Zustand ihrer Freundin sind und hoffen auf eine schnelle Genesung. Ecco la traduzione in Italiano. Dopo l'incidente, Chiara è stata immediatamente portata in ospedale, dove ha dovuto subire un'operazione a causa delle sue gravi ferite. La sua famiglia ha chiesto privacy mentre i familiari cercano supporto in questo momento difficile. Le amiche hanno parlato di quanto siano preoccupate per le condizioni della loro amica e sperano in una rapida guarigione. L'incidente ha riacceso anche la discussione sulle misure di sicurezza nelle zone turisticamente popolari di Napoli. Mentre la città negli ultimi anni ha cercato di promuovere l'immagine di una meta sicura, ci sono ripetutamente notizie di incidenti e problemi di sicurezza nei vicoli stretti e nelle piazze affollate. Alcuni cittadini chiedono quindi una sorveglianza più intensiva e misure di sicurezza più ampie. L'idea di sviluppare Napoli come meta attraente per i turisti è in netto contrasto con le sfide legate alle attrazioni turistiche. Tuttavia, le autorità sottolineano che la protezione dei turisti e dei residenti è la massima priorità. Mit il recente incidente, questa necessità diventa più urgente che mai. I cittadini si sono uniti sui social media per esprimere la loro preoccupazione per la sicurezza in città e chiedere miglioramenti. Alla luce degli eventi che sono aumentati negli ultimi anni, resta da vedere quali misure adotterà la città per garantire la sicurezza di tutti. Rimane la speranza di una pronta guarigione per Chiara Iaconis, mentre Napoli affronta le sfide e la responsabilità di mantenere la sua reputazione come meta turistica sicura. Autoranita FAC è martedì 17 settembre 2024.